Voglio fare oggi e domani una disamina di Mazzoli, di Marco Mazzoli, uno speaker, senti quella che musica che mi mette, sì, è azzeccata la musichetta triste perché Mazzoli è stato un grande, grandissimo speaker radiofonico, lo è ancora, lo è ancora, fa un programma che è credo il più ascoltato in Italia nella fascia del pomeriggio, però porca puttana ragazzi che brutto, che brutto influsso che ha fatto i social a Mazzoli, io lo ascoltavo prima che nascesse Facebook, prima che nascessero i vari TikTok e Instagram che sono arrivati dopo ed erano persone nettamente diverse, ad esempio mangiava la carne e da quando ci sono i social sarà una coincidenza ma Mazzoli non mangia più la carne e senti perché? Cambiando argomento, siccome so che vi rompo le palle spesso postando cose sugli animali, io in realtà cerco di sensibilizzare le persone, ieri ho discusso con una persona sul fatto che io non mangio la carne e mi diceva tu sei pazzo, qua e là io compro la carne certificata in una catena americana molto famosa che si chiama Trader Joe's, e dice lì la carne è controllata, arriva da allevamenti che non sono intensivi, i polli non hanno schifezze dentro, quindi antibiotici e tutto il resto, e gli ho detto ma sei sicura di quello che stai dicendo? No assolutamente sì, non fare il complottista, guarda caso, adesso la posto dopo questa mia story, vi posto il servizio che ha fatto questa ragazza che è un investigatore sui maltrattamenti degli animali che è andata proprio in una delle fattorie dove forniscono questa catena di supermercati e guardate un po' che cosa ha trovato. E cosa vuoi che abbia trovato l'investigatrice? Ma poi Mazzoli chi è che ti dice che quella investigatrice lì non sia pagata dagli altri gruppi di carne per andargli in culo proprio a questo qui, a questo Joe che vende negli Stati Uniti dove ti trovi? Cioè fatti delle domande, cioè non è tutto oro colato, spesso è merda colata quella che trovi sui social, io sono andato a vedere Food for Profit e in un'ora e mezza di film sono visti degli allevamenti di maiali di merda con la merda del maiale in Mursia perché li avevano cercati in Italia ma in Italia per legge da tantissimi anni hanno i depuratori quindi non gli vai in culo agli allevatori di maiali in Italia e si è andato in Mursia per trovare la merda del maiale a cielo aperto e poi abbiamo trovato un'ernia addominale di un maiale, dei pulcini ammazzati perché non producevano abbastanza invece di tirargli il collo e gli sbatteva la testa ma quello era un rincoglionito su migliaia di persone che magari lavorano puliti invece negli allevamenti e della mastite, ma la mastite ce l'avevano anche le vacche di mio zio Luigi che aveva una stalla da 12 sorane ma vaffanculo, sentiamo ancora Mazzoli, Mazzoli dice ma che mondo meraviglioso sarebbe se i social non fossero fatti per mostrare la ficca al buco del culo e no, è quello il valore aggiunto dei social i miei genitori non mi avranno educato benissimo, visto quello che faccio di lavoro però mi hanno insegnato una cosa che io spesso riutilizzo che è fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio purtroppo ragazzi quando ci sono di mezzo i soldi c'è sempre sotto qualche magagna è raro che qualcuno faccia tutto pulito e riesca a ricavarne tanto profitto c'è sempre qualche merdata dietro ma dai cazzo tu puoi leccargli solo l'uccello a Mazzoli dai Gottardo va a cagare sai qual è la differenza? che lui ha empatia, ha presa di coscienza, è una persona che si informa e può cambiare idea e tu sei un clown Mazzoli ha fatto la fine di Rudolf Hess, era un pupillo, era una gemma, ha preso l'aereo e ha detto quella merda insomma adesso paragonarlo a Rudolf Hess mi sembra un po' eccessivo è vero, è vero io come speaker valgo un'unghia di Marco Mazzoli infatti lui è a fare lo Zodd 105, io sono a fare il mio programma la mattina in abbonamento col podcast e sono contento così però sentire Mazzoli che parla di fake news mi fa veramente, c'è uno che fa le dirette con Red Ronny e parla di fake news ora io odio e amo i social perché da una parte se fossero utilizzati come andrebbero utilizzati quindi questo potrebbe essere il miglior mezzo di informazione poi sai ci sono le fake news, ci sono le tipe con i buchi del culo fuori chi posta foto di quello che sta mangiando e di questo a me non frega un cazzo mi piace quando puoi attingere a informazioni vere e magari svegliarti da un coma molto lungo svegliarti dal coma molto lungo? ma non lo so, io non credo di essere in coma ma non credo di avere nulla da cui svegliarmi, di solito quelli che dicono sveglio sono appunto i nostri peggiori o forse migliori a seconda del punto di vista ascoltatori sentiamone alcuni ancora ma smetti di dirbelinate stamattina con le vacche di tuo zio Luigi alle 8.20 dovevi staccare che era meglio ragazzo c'è sempre sotto qualche magagna, hai capito? la sa tutta Mazzoli Giorgio però io scommetto che se Alberto si presentasse in quel di Miami Beach verrebbe accolto a braccia aperte dal suor Mazzoli a braccia aperte come direbbe il mio guru Giuseppe Mazzoli è un zechila che ce l'ha fatta un zechila complottista che ce l'ha fatta io Mazzoli lo ascoltavo ancora nei primi anni 2000 con Wender, Giba, Leone di Lernia un programma meraviglioso poi come tutti i boomer adesso ha la sua fede la sua nuova fede in questo caso gli animali e la carne e come tutti i boomer cerca di diffonderla il più possibile ma dov'è il Mazzoli di Nenna Rosa dov'è il Mazzoli dello Zoo di 105 che faceva dalle 14 alle 16 del pomeriggio dov'è è diventato proprio un incoglionito amico di Redronni, Eros e Giorgio vabbè io non sei così Transhan è ancora un grande speaker forse il migliore che c'è sicuramente il migliore del pomeriggio io gli mando i miei saluti spero che nessuno gli faccia mai ascoltare questo pezzo di morning show che se no io so che magari lui è anche uno per maloso potrebbe anche incazzarsi